Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi ho deciso di presentare in maniera prima intuitiva e grafica e poi leggermente più rigorosa e formale il teorema della funzione implicita, che in Italia è anche spesso noto come il teorema del Dini, in quanto Dini è stato un matematico italiano che ha contribuito particolarmente a questo risultato in termini proprio di derivazione e di dimostrazione insomma. Però questo è il termine un po' più internazionale, di solito è noto come implicit function theorem nella letteratura inglese, anglosassone insomma. Quindi partiamo con un'intuizione che è l'esempio più classico insomma con il quale uno si interfaccia con questo teorema, ovvero quello della circonferenza unitaria. Supponiamo appunto di avere una funzione f che va da r2 in r e di essere interessati agli insieme degli zeri di questa funzione, quindi alle coppie x y in r2 tale per cui f di x y sia zero. E in questo caso la funzione f li interessa è x quadro più y quadro meno uno e l'insieme degli zeri di questa funzione non è altro che la circonferenza unitaria che è quella che ho disegnato in giallo. Supponiamo poi di avere un punto, quello rosso, su questa circonferenza ovvero che appartiene all'insieme degli zeri e di essere interessati a rappresentare intorno a questo punto, stando abbastanza vicini ad esso, questo insieme degli zeri come grafico di una funzione. O piuttosto di essere interessati a capire quando questo sia possibile. Questo esattamente è quello che il teorema della funzione implicita ci garantisce. Infatti esso ci garantirà, viste le ipotesi e la tesi che vedremo nella prossima slide, che se qualcosa è soddisfatto, qualche ipotesi è valida, allora intorno al punto rosso esiste un rettangolo, un intorno del punto all'interno del quale il nostro insieme degli zeri, quindi la curva gialla intersecata con l'insieme azzurro, sia rappresentabile o coincida con il grafico di una certa funzione g di x, y uguale a g di x. Questa funzione in principio non è nota in termini espliciti e infatti il teorema della funzione implicita non ci permette in maniera costruttiva di ottenere questa espressione, tuttavia questo teorema ci garantisce la sua esistenza. Nel caso particolare di f definita in questo modo, la funzione che implicitamente ci definisce il nostro insieme degli zeri è y uguale radice di 1 meno x quadro, almeno nel semipiano superiore, quindi con y maggiore di 0. E ci concentreremo su questo esempio anche nell'ultima slide facendo qualche conto in più. Vediamo però ora l'enunciato, quindi cerchiamo di formalizzare in termini matematici più rigorosi quello che abbiamo intuitivamente visto nella slide precedente. E come detto non ambisco a fare un video il più generale possibile, il più rigoroso possibile. Infatti ci concentriamo sul caso di funzioni da r2 in r. Questo teorema può essere poi rilassato in termini di ipotesi, quelle che vedremo sono un po' più restrittive rispetto a quelle più generali appunto, e può essere anche esteso a funzioni vettoriali e di più input rispetto a 2 insomma. Ma questo è più che sufficiente secondo me per avere un'idea di come questo teorema funzioni e della sua utilità. Poi se vuoi approfondire puoi chiaramente andare a studiarti in maniera indipendente libri e dispense che sono disponibili online o quelle suggerite dal corso magari che stai seguendo e in caso tu sia interessato o interessata a qualche applicazione più avanzata magari scrivi pure un commento che potrai provare a portare un update, una versione 2 di questo video insomma. Comunque andiamo al dunque. Supponiamo di avere una funzione f da r2 in r che sia di classe c1, ovvero che sia derivabile in entrambe le componenti x e y in particolare e che le derivate siano continue. Poi supponiamo che f calligrafica, questa seconda riga, sia l'insieme degli zeri della funzione f, ovvero l'insieme delle coppie ordinate x e y in r2 tali per cui f di x e y sia 0. Supponiamo poi altri due fatti, insomma il primo è che questo insieme non sia vuoto e quindi concentriamoci su un punto x con 0 e y con 0 che sta in f calligrafica e poi supponiamo che la derivata rispetto a y, la derivata parziale di f valutata nel punto sia diversa da 0. Questa è un'ipotesi importante perché ci permette di garantire l'esistenza di una funzione g che faccia il servizio al quale siamo interessati e la continuità delle derivate di f ci garantisce anche che questa condizione valga abbastanza vicino al punto x con 0 e y con 0 appunto per continuità della derivata parziale in particolare. Se queste ipotesi sono soddisfatte allora abbiamo che esiste una funzione g che va da un intorno i di x con 0, per esempio x con 0 meno delta e x con 0 più delta, a un intorno di y0, i y0. E a cosa serve questa funzione? Che servizio ci fa insomma? Ci serve per definire il nostro insieme degli zeri in un intorno del punto x con 0 e y0 come il grafico della funzione g, ovvero siamo in grado di esplicitare una relazione del tipo y uguale a g di x che ci permette di ottenere tutti e soli gli zeri di f in una certa area del piano, insomma, quindi in un certo intorno del punto. Infatti abbiamo che l'intersezione di f con il prodotto cartesiano tra i due intorni, x con 0 e y0, coincide con il grafico della funzione g di x, dove x sta in un intorno i di x con 0, quindi per x abbastanza vicino ad x con 0, la curva gialla che abbiamo visto prima, l'arco di circonferenza, coincide con il grafico di g di x e questo è importante perché abbiamo in maniera più esplicita quello che è l'insieme degli zeri e di conseguenza possiamo poi giocarci in maniera più o meno diretta, insomma, e poter interfacciarci in maniera più semplice anche con questo insieme. che a priori è scritto solo in termini algebrici, come un'equazione non lineare. Andiamo poi a concludere questo video concentrandoci ancora sull'esempio di partenza, però facendo qualche conto, ovvero verificando che le ipotesi del teorema vengano soddisfatte e quindi che la funzione implicita sia ben definita. Poi la possiamo anche ricavare in maniera molto semplice in questo caso. Nell'esempio visto all'inizio abbiamo appunto che f di x y è un polinomio di grado 2, quindi è in particolare x quadro più y quadro meno 1 e di conseguenza è differenziabile infinite volte in particolare di classe C1. Quindi la prima ipotesi è soddisfatta, poi chiaramente va da R2 in R e quindi anche l'ipotesi che caratterizza f è ben soddisfatta. Poi dobbiamo verificare che ci sia almeno un punto nel nostro insieme degli zeri e che in questo punto la derivata parziale rispetto a y non si annulli. Abbiamo chiaramente che almeno x con 0 y 0 uguale a radice di 2 su 2 radice di 2 su 2 appartiene all'insieme, visto che radice di 2 su 2 al quadrato fa un mezzo e un mezzo più un mezzo fa 1 e poi abbiamo che la derivata parziale rispetto all'y di f è 2 volte y. Se quindi valutiamo questa funzione nel punto x con 0 y 0 come definito qui, abbiamo che la derivata parziale nel punto z 0 uguale a x 0 y 0 è radice di 2, che è chiaramente diversa da 0. Ciò ci porta a dire che il teorema del digno della funzione implicita garantisca l'esistenza di una funzione y uguale a g di x, per cui se valutiamo la funzione f nella coppia x g di x otteniamo 0. E tutti e solo gli zeri della funzione in un certo intorno sono di questa forma qui, x g di x. Non possiamo dire di più a priori, però in questo caso molto semplice siamo anche in grado di ricavare in modo esplicito la funzione g di x, semplicemente risolvendo per y la funzione f uguale a 0, l'equazione f uguale a 0. E in particolare otteniamo che y è uguale a più o meno radice di 1 meno x quadro. Se siamo poi interessati a un intorno del, diciamo, del nostro punto radice di 2 su 2, radice di 2 su 2, siamo interessati al semipiano superiore e quindi in particolare teniamo il segno più davanti alla radice e quindi abbiamo che g di x uguale a radice di 1 meno x quadro fa il nostro servizio, fa il servizio a cui siamo interessati e lo fa in particolare nell'intorno x con 0 che è meno 1, 1 e y con 0 che è 0, 1. Quindi questo era un esempio molto semplice ma anche il più classico per iniziare ad approcciarsi a questo teorema molto molto utile e molto generale anche. È utilizzato in vari ambiti e recentemente ci sono state anche varie utili applicazioni per esempio nel campo delle reti neurali per avere layer delle reti impliciti e se vuoi se sei interessato possiamo andare nei dettagli di qualche applicazione un po' più avanzata a per ora direi che è più che sufficiente questo video qui. Comunque se hai qualche suggerimento consiglio o domanda lascia pure un commento qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!